In concomitanza con il vertice di Trieste e dei capi di governo che avrà luogo il 12 luglio si svolgerà contestualmente un incontro dei giovani universitari dei paesi balcanici. Nel 2017 ricorre il trentennale dell'avvio del programma Erasmus e pertanto sarà su questi temi che si confronteranno a Trieste giovani studenti provenienti da sei paesi dei Balcani occidentali in un youth forum dal titolo Connecting Youth Moving Forward. Il meeting sarà appunto celebrativo dei 30 anni di Erasmus in Europa e ne valuterà l'impatto di possibili sviluppi nel campo dell'istruzione superiore nei Balcani occidentali. I partecipanti saranno studenti universitari selezionati dai rispettivi paesi provenienti da Bosnia e Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia ed Albania. L'evento si svolgerà presso l'Università di Trieste i giorni 11 e 12 luglio alla presenza di autorità governative parlamentari e funzionari dei paesi balcanici, dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, del Ministro degli Affari Esteri Italiano e di varie organizzazioni internazionali. Nel corso dello youth forum verranno anche discusse possibili misure concrete come quelle emerse durante il recente meeting dell'organizzazione Uniadrion, misure che verranno proposte ai capi di governo che si urineranno a Trieste e saranno costituite da una serie di obiettivi quali l'intensificazione dei rapporti tra le università dei paesi coinvolti nel processo di Berlino, la messa in atto di uno progetto Erasmus specifico per i paesi del processo di Berlino ed il supporto da parte dell'UE ai programmi di networking coinvolgenti università dei paesi del processo di Berlino. Interverrà anche allo youth forum l'onorevole Luigi Bobba, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.